272esimo anniversario della battaglia dell'Assietta. Il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, ha partecipato alla 51esima edizione della Festa del Piemonte al Colle dell'Assietta, che ha ricordato un episodio cruciale nella storia del Piemonte. Nel 1747, agli oltre 2.500 metri del Colle, si affrontarono 20.000 soldati francesi e spagnoli e 7.500 piemontesi. Dopo cinque ore di battaglia, i francesi furono costretti a ritirarsi, rinunciando alla conquista del Piemonte. La giornata, organizzata dall'Associazione Festa del Piemonte al Colle dell'Assietta, dopo l'alza bandiera iniziale, ha visto la celebrazione della Santa Messa in lingua piemontese dal cappellano militare Don Diego Maritano. I partecipanti si sono poi trasferiti all'Obelisco per gli onori ai caduti. Infine, alla Casa Cantoniera Rifugio a Assietta, il coordinamento rievocazioni storiche 1600-1700 ha fatto rivivere gli episodi salienti della battaglia, con una rievocazione a fuoco a cui hanno partecipato figuranti con uniformi e armi fedelmente riprodotte. Dalla battaglia dell'Assietta trae origine anche il noto appellativo piemontese Bugianen. Il conte di San Sebastiano, all'esortazione di lasciare le proprie posizioni, rispose appunto noi autri Bugiumanen, noi da qui non ce ne andiamo. Abbiamo necessità di far conoscere non solo ai piemontesi la dicitura Bugianen, che non è solo esclusamente che non ci muoviamo come piemontesi, ma che ha un significato carico di storia, di tradizione, di cultura, che noi prendiamo un punto fermo e lo portiamo a compimento. La giornata precede idealmente un'altra importante ricorrenza che interesserà il Piemonte l'anno prossimo, il cinquantesimo anniversario dell'istituzione delle regioni, che vedrà il Piemonte capofila di un ricco calendario di appuntamenti. Manifestazioni storiche come quella di quest'oggi devono essere istituzionalizzate, riconosciute da tutti gli enti locali e devono essere anche riconosciute e aiutate economicamente. Abbiamo necessità di far conoscere il Piemonte non solo ai piemontesi, ma in tutto lo Stato, ma anche verso l'Europa.